Il gruppo qua è tutto qua, ecco, lo vediamo numericamente tutto qua e chi ci sia lì sopra che tira giù sassi è veramente strano, sembra quasi un pretesto per autorizzarli a usare in maniere forti. Mantenete la posizione, capito? Ah l'esercito raga! Ce ne sono tanti là, tanti, tanti! Cosa sono mecchi? Andro, questo è qui, te lo dico. Allora, è fina, non mi porto. Sì? 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 la mia la mia la mia la mia la su le mani, su le mani, su le mani su le mani, su le mani, su le mani, su le mani su le mani, su le mani